Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sul traffico. Mercoledì 11 agosto, nel mezzo della settimana che precede l'effere agosto, con molti italiani già in vacanza, quindi la viabilità è fluida. Lo vediamo dalle immagini sia sull'A4 ma anche in A14, dove al momento ci sono code tra Bologna, Borgo Panigale e San Lazzaro, anche per un incidente tra Ramo Verde e Via Triunvirato. Andiamo subito nel tratto campano dell'Autosole per segnalarvi sulla 3 Napoli-Salerno la chiusura per un incendio tra barriera di Napoli Sud barra e la 1 Milano-Napoli in direzione del capologo partonopeo. In area Ligure, per programmati lavori di manutenzione ma anche per un veicolo in navaria, ci sono code tra Ovada e Masone. In area Toscana abbiamo code per lavori tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Mi fermo qui, non abbiamo più tempo, grazie per l'attenzione, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.